Shalom, Shalom, Shalom e anziani della Great Millstone per avermi insegnato questa verità e pace alla Casa di Israele a coloro che con sincerità cercano di sapere questa verità. Non ho ancora pensato ad un titolo per questo video ma questo video sarà basato sulla fede, ok? La domanda è, quando non potremo più comprare né vendere, cosa faremo? Ok, ho fatto un video in passato parlando del marchio della bestia ed è inevitabile che siamo proprio vicino, vicino e vicinissimo. Al momento in cui per comprare e vendere avremo bisogno di un microchip nel nostro corpo che è il marchio della bestia, ok? Ok, in questo punto cosa farete? Faccio questa domanda perché ne ho visto tanti Appena gli dicono che non c'è più lavoro, non c'è più questo Se la fanno addosso, hanno paura Si mettono sotto proprio Sono pronti a fare qualsiasi cosa per mantenere il proprio lavoro Per mantenere qualsiasi cosa che li porta i soldi La gente ha dimenticato proprio del padre Non ha più il senso del padre Ora andiamo a leggere qui Da libro di Proverbi Capitolo 3 Versetto 5 Che dice Confida nel Signore con tutto il cuore Non appoggiarti sulle tue convinzioni In tutto quel che fai ricordati del Signore Yahweh Ed Egli ti indicherà la via giusta Non credeti più saggio di quello che sei Ubbidisci al Signore Yahweh Ed evita il male E' davvero potente Questi tre versetti che abbiamo letto E ho letto la versione Ok Della traduzione Intakef confessionale in lingua corrente Che ho visto Che ha la traduzione più giusta Le altre versioni mi hanno dato diverse parole qui Ma questa ho visto Che ha la parola più vicina a quella giusta Perciò Cari fratelli Qui abbiamo letto Che dobbiamo confidare nel Signore Con tutto il nostro cuore E non dobbiamo appoggiarci Sulle nostre convinzioni Tutto quello che facciamo Dobbiamo ricordarci del Signore Yahweh Ed Egli ci indicherà la via giusta Non dobbiamo crederci più saggi di quello che siamo Dobbiamo obbedire al Signore Yahweh Ed evitare il male Tanti di noi non siamo capaci di fare questo Abbiamo proprio perso il senso All'inizio di questo video Ho parlato di fede Noi A giorno d'oggi Abbiamo perso La fede Non sappiamo nemmeno Che cosa vuol dire la fede E Anzi andiamo a vedere Che cosa vuol dire la fede Che si trova nel libro di Ibrei Nel primo capitolo No No Scusatemi Si trova nel Undicesimo capitolo Versetto 1 Che dice La fede è un modo di possedere già Le cose che si sperano E conoscere già le cose che non si vedono Anzi andiamo a vedere un'altra versione Prendiamo questa versione Or La fede è certezza di cose che si sperano Dimostrazioni di realtà che non si vedono Mi piace già di più questa versione per questo versetto Perciò la fede è la certezza di cose che si sperano Dimostrazioni di realtà che non si vedono E noi speriamo di far parte del nuovo regno Che avrà A tra poco Un nuovo regno che Verrà guidato dal figlio del padre Yahweh Shai Noi Abbiamo fede che questo regno A breve finirà E i malvagi Coloro che sono i nostri oppressori Saranno i nostri schiavi Come è scritto nel libro di Malachia Nel libro di Geremia Nel libro di Isaia Nel libro Di Apocalisse E per tutte le scritture Questa è la nostra fede Abbiamo fede Che nei tempi difficili Quando non potremo più Comprare Nel vendere Se non abbiamo questo microchip Che è il marchio della bestia Abbiamo la fede Che il padre Prenderà cura di noi Ok Per non escludere Che tanti di noi Dovremmo pagare Con la nostra vita propria Come è scritto Che tanti santi Verranno uccisi Per questa verità Per non accettare Il marchio della bestia Tanti ve l'hanno messi a morte Anche fino alla morte Abbiamo la fede Che il padre Sarà sempre con noi Ok Perciò Cari fratelli Che se cercate Questa verità Con sincerità Fatevi duri Fatevi forti Il padre Non tratta con uomini E femminiti Non tratta con uomini Semplici Il padre Tratta con uomini Forti Ok Ora andiamo a leggere Dal libro di Matteo Capitolo 17 Versetto 20 Anzi Sì Del figlio del padre Imparate Dalle sue parole Abbiate Il timore del padre Perché Senza il timore del padre Non facciamo nulla Avendo il timore Ci spinge A conoscerlo di più A studiare Le sue parole E mettere in pratica Soprattutto I suoi comandamenti Al meglio Della nostra capacità Ok Poi ci verrà Ci verrà Dato la luce Che è la sua Conoscenza Questa conoscenza Che sto condividendo Con voi Che ho imparato Degli apostoli Anziani Della Great Meuston Perciò Carissimi fratelli Arriveranno Momenti Davvero Pesanti E duri E questi momenti Sono alle porte A breve Cominciamo Cominciamo Già A vedere Come I figli Di Esau Stanno Andando Pian pianino E cercando Di etichettarci Tutti E renderci Schiavi Del sistema Più di quello Che lo siamo Già Mettendoci I microchip E usando Prima Il vaccino Che ci Che sicuramente Andrà Ad abbassare Una dotte Importante Nel nostro corpo La nostra DNA Il regno Ad avvenire Non è un regno Che si guadagna Facilmente È un regno Che si guadagna Facendo vedere Che sì Vogliamo questo regno Qui Andiamo a leggere Dal libro Di Apocalisse Capitolo 3 E versetto 10 E dice Siccome hai osservato La mia esortazione Alla costanza Anch'io Ti preserverò Dall'ora Della tentazione Che sta per venire Sul mondo intero Per mettere Alla prova Gli abitanti Della terra Io vengo presto Tieni fermamente Tieni fermamente Quello che hai Perché Nessuno ti tolga La tua corona Andiamo a leggere Andiamo a leggere Un'altra versione Vediamo cosa dice Siccome Siccome Oh scusatemi Apocalisse 3 Apocalisse 3 Versetto 10 Siccome hai osservato La mia esortazione Ok Alla costanza Vediamo se C'è Mi piace questa versione Di più Come lo spiega Qui Perciò che tu Hai guardato La parola Della mia pazienza Qual è la parola Della sua pazienza Sono I suoi comandamenti Questo libro Le scritture Sono le parole Della sua pazienza Ok Questo è il figlio Del padre Che parla Io altresti Ti guarderò Dall'ora Della tentazione Qual è l'ora Della tentazione Quello che Ho appena Parlato Il momento Della Della I termini Ora non mi viene Della tribolazione Di Giacobbe Ok Periodo In cui Nessuno potrà Comprare Nel vendere Se non ha Il marchio Della bestia Che è alle porte Questo periodo Qui Non è Non ci vuole Più tanto Ok Io altresi Ti guarderò Dall'ora Della tentazione Che verrà Sopra Tutto Il mondo Per far prova Di coloro Che abitano Sopra La terra Ecco Io vengo In breve Infatti Carissimi Fratelli Queste parole Hanno Potenza Potere Yahushai Dice che Verrà In breve Ritieni Ciò Che tu Hai A ciò Che Nenuno Ti tolga La tua Corona Ciò Che hai È questa Verità Alcuni Come La parabola Del libro Di Matteo Ok La prima parabola Che ha fatto Yahushai Mi sa che si trova Nel terzo capitolo Secondo Che parla Dei diversi terreni Ho fatto anche già Un video su questo Quale terreno sei Quando Ti arriva Questa verità È questo qui Perché se non Tieni stretto Questa verità E non 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 la coltivi Non la fai crescere Perché questa verità È una pianta È come una pianta La fede È come una pianta Si cresce Si prende cura Di questa pianta Qua Che è creato Che è creato Da padre E fa Suo lavoro Suo lavoro È quello Di provarci Si vede Che tu Non la tieni Proprio strettamente E ti lo porta via E torni E torni nel mondo E torni Peggio Di quello Che eri Prima Perciò Facciamo attenzione Carissimi Fratelli Ok Leggo Un ultimo Versetto E chiudo Questa lezione Qui E si leggerà Dal libro Di Salmi Capitolo 91 Che è un È un bel libro Davvero Chi dimora Nel nascondimento Dell'Altissimo Alberga L'ombra Dell'Onipotente Cosa vuol dire Nascondimento Dell'Altissimo I suoi comandamenti Conosce La conoscenza Del suo e vero nome Questo è il nascondimento Dell'Altissimo E chi dimora In questo Alberga Nell'ombra Dell'Onipotente Io dirò Al Signore Yahweh Tu sei Il mio ricetto E la mia Fortezza Mio potere In cui Mi confido A chi Dobbiamo confidare Il Padre Yahweh Nel nome Di suo figlio Yahweh Certo Egli ti riscolterà Dal laccio Dell'uccellatore Qual è il laccio Dell'uccellatore Dalla pestilenza Mortifera E tutto quello Che sta per arrivare Al mondo intero Ne ho parlato Ne ho parlato di un terza guerra mondiale Che avrà E questo non sarà Nulla di facile Come prima Vedremo volare missili Ok Vedremo bruciare Diversi paesi Soprattutto La Babilonia Di giorno d'oggi Che è America Tanti moriranno E tanti Moriranno davvero Egli ti farà Riparo Con le sue pene E tu ti Ridurrà In salvo Sotto alle sue ali Anzi Andiamo a vedere Un'altra versione Vediamo La nuova riveduta Chi abita Il riparo Dell'altissimo Riposa All'ombra Dell'Onipotente Io dico Al Signore Jehovah Tu sei Il mio rifugio La mia Fortezza Il mio potere In cui confido O scusatemi Il mio potere In cui confido Certo Egli ti libererà Dall'accio Del cacciatore Chi sono i cacciatori I malvagi I figli di Esau Ok Qual è il loro laccio Tutte queste cose Le trappole Che ci mettono La trappola Del covid La trappola Del vaccino Poi la grande Trappola Del microchip Ok E dalle Peste Micidiali Oh Queste peste Micidiali Stiamo già vedendo Le prime Poi avverranno Quelle più grosse Come ho detto Prima I missili Egli ti coprirà Con le sue pene E sotto le sue ali Troverai rifugio La sua fedeltà Ti sarà scudo E corazza Tu non temerai I spaventi Della notte Nella freccia Che vola Che vola di giorno Ok Nella peste Che vaga Nelle tenebre Nello sterminio Che imperversa In pieno Mezzogiorno Cari fratelli Fatevi forti Perché Sta avvenendo Sta per arrivare Qualcosa Che nessuno Può immaginare Un momento Come mai Da quando La terra È stata Creata Ok Mille ne cadranno Al tuo fianco E diecimila Alla tua destra Ma tu Non ne sarai Colpito Basta che tu guardi E con i tuoi occhi Vedrai il castigo Degli empi Questo versetto È forte Questo numero nove Poiché Tu hai detto Oh signore Yahweh Tu sei Il mio rifugio E hai fatto Dell'altissimo Il tuo riparo Nessun male Potrà Colpirti Ne piaga Alcuna Si accosterà Alla tua Tenda Mi fermo qui Andate avanti A leggerla Che è un bel libro Qui Com'è che non voglio Tenere troppo lungo Questo video Perciò Avete visto Dobbiamo confidare Nel signore E non nel nostro Sesso Nel noi stessi Non nella Nostra Intelligenza I nostri lavori Le nostre posizioni Cavolate varie Ok Dobbiamo confidarci Nel padre Yahweh E nel suo figlio Yahweh Amarlo Come possiamo amarlo Osservando i suoi comandamenti Questa sarà La prossima lezione Come possiamo amare Il padre Yahweh 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 Pochi E come dico Spesso Nei video Che faccio Il padre Conosce Le sue pecorelle E le sue pecorelle Conoscono La sua voce E lo seguiranno Detto questo Voglio dare Tutti i lodi Ringraziamenti E tutto dovuto Al padre Yahweh Nel nome Di suo figlio Yahweh Shai E i doppi onori Agli apostoli Anziani Per avermi insegnato Questa verità E pace Alla casa Di Israele A coloro Che sinceramente Cercano la verità Shalom Alla prossima Alla prossima